no diretto dove sto mirando io da quella parte oltremente di dietro qualcosa per questo sta in mezzo siamo noi madonna no 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 c'è mentre perché non c'è chi è che è nato all'elicacchio nessuno nessuno dove siete voi noi stiamo più avanti ma no sito fox te volete dietro un cristo di albero dietro un cristo bravo hai fatto la cosa migliore bravo io stava di manchi sede perché monosido non c'è ma chi siamo da prima già sparato se voloso aspetta che cominciò a far su e giù così ma io non vi vedo o no non risentiamo ecco di monossido ecco di non vi vedo madonna dietro dite in moto o vabbè ha capito devanna piscia in faccia se no non mi vedi oh me vedi me vedi madonna cattroia quanti zombie che ci stanno là ma guarda che qua qua dentro non vi vedo io là comunque la barra che è quella là no è quella laggiù la barra comunque ci stanno i pg ci stanno dove la barra ma le mani madonna ce l'abbiamo sulla sinistra pg ne hai visti stanno sulla strada si va bene non vi mettete completamente a destra madonna madonna dove sono e tanto ci dovevamo annaccia che vogliamo rimanere fermi qua no ma tanto pure se crepiamo pazienza ma intanto crepiamo sempre qua una moda ormai passiamo tutto a sinistra dopo le lì mal che vada ci andiamo dopo io c'è una pistola calcolate solo questo fox ma dio santo no tu c'è la cappa madonna la barra non so se quella la barra mi sembra è quella la barra è quella dove sto mirando io ma voi li sentite i cani si scusate ma ci posso fare niente abbasserò i miei microfoni in sto punto che ne so eh si ma dovrei abbassare ragazzi comunque è stato bello vero finchè è durato 9 ore di gameplay wow ma intendo è stato bello conoscervi alla fine cioè siete una buona compagnia cioè non è che mi porto sfiga però non è che ti porti sfiga però c'ha porti comunque perché tanto il primo che va sono sempre io quello che alla fine ci rimette da io madonna guarda come creavo dentro le barra che io già lo so questa qua non è una bar che non è luttabile alle finestre tipo quella la più avanti la barra teoricamente no è questa è luttabile ah si io non li vedo i pg comunque stanno da ste parti e ve lo dico eh lo so ma tanto l'avranno già luttata sta barracca però io mi rendo pure gli scarti adesso io c'è una panchina faria si ma se entrate tutti insieme mi fate un favore se non mi fanno a me poi mi fanno a voi ascentro bello ho trovato un fucile da sniper il dmr bello zii bello eccoci qua tornati per l'inconveniente che ha laggato il server eccoci qua stiamo nelle barracks il punto di lutte migliore dalla mappa binx si è trovato un fantastico fucile da sniper il dmr non entrate qua ci sto io non ci stiamo proprio tutti addosso usciamo da qua pensi non c'è un'altra tipa che si spaccano mezzo no uno per volta non non vanno sotto il culo carta piano anche poi ci stanno zombie va avanti petto perchè sti barche desti banchine non lo so stenditi stenditi appena sei riuscito fox stenditi perché mi riempro la borraccia ma madonna adesso ti devi riempire la borraccia stiamo qua tanto avevamo 20 pg a destra e a sinistra madonna ce ne sono un mucchio ce ne sono 5 davanti a noi davanti a noi dove sulla destra su una seconda strada aspetta che la riempie pulito il borraccio ovvero tre secondi tanto ci mette ho capito però c'è madonna sulla destra no sulla mia destra non so la vostra qual è adesso sinceramente io comunque visto che siamo arrivati all'aeroporto mio me ne andrei non so non so voi quant'atene ma si tanto la fine le barche ci sono arrivati l'acqua l'abbiamo riempita cioè inutile c'è sfida la forno eriki calcola che stanno sulla nostra destra stanno sulla nostra destra e sono tipo 4 o 5 che bello comunque per chi non lo sapesse se voi state in un server dove la mappa vi fa vedere la vostra posizione vi fa vedere anche la posizione dei vostri nemici c'è dietro uno zombie quindi camminate in avanti per favore allora le cose sono due o facciamo un mega fugone finché non troviamo tipo una casa luttabile c'entriamo dentro lontani da qui e spariamo no no non mi piace come idea ce ne andiamo piano piano e allora muovetevi fox muoviti perché qua dietro c'è uno zombie e mi sta attaccato al culo muoviti doppio shift chi è che chi sto qua davanti a me che sta rotolato monossido ma scusate ma andiamo no è chiuso là c'erano dei bg comunque là dove sto andando io e staranno venendo qua perchè qua c'è la barracks comunque non vuole dimmi niente ben credo non niente se no allora mi raccomando poi non mettere i palici piano con shift in giù perché ammazzeremo qualcuno ci ammazzeranno perché pura legittima difesa ho rotolato con shift no c'è la gente rotola ah è rotola e ce fa fanno tanti problemi oh mi spesso si sentiranno i cani vabbè io cerchiamo di coprire la cosa con un attimo con Sony Vegas modifica un attimo però purtroppo vicali posso ammazzare piano piano ce ne andiamo piano piano profilo basso basso profilo quando andiamo guarda tipo giriamo l'angolo ci troviamo tipo un plotone d'esecuzione voi chi siete pom 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 no senza voi chi siete proprio pom 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 come abbiamo fatto noi prima che gli hanno sloggato quei villani in teoria qua dovrebbe essere luttabile sto edificio qua con le finestre no questo no non lo ricordo che non no no è grande imponente pieno di luce lo so se continui dritto non ti fa niente che devo essere io quello che ti capita eh sono stato fino a muoio quindi accontentati e comunque le prime bg erano qua corri vai cazzo righi vai piota ah siamo tutti dietro tutti ci fanno una colladra oddio effettivamente non avrebbero tutti torti a farci ah effettivamente ma che dobbiamo fa adesso lo togliamo verso sinistra prendiamo qua eh eh c'hanno zombie però lì davanti la porta no qua no infatti lo togliamo qui rotola rotola bimbo minchia rotola rotola merda grato sei un imbecilo però corri 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 alzate corri alzate corri correte 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 per te da nonno eh ho capito abbiamo trovato un posto oggi no qua non si può sta ma non è bufalita non si è fatto le gambe ma non si è mai rotto hai morto fox è bella come il caso non è morto non è morto non è morto oh non corre no come è morto no 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 non è morto madonna sta eh ci sono morto io che mi sto fermata a cambiare ma madonna chi è quello la che corre nei campi eh so io ma no chi è chi è che oh ci ho dietro ci ho dietro uno zombie ci siete e fox? eh fox è morto hai proprio andato? eh penso di si eh forse no madonna prova a uscire fox tanto c'è inutile è vero che muochi stelle c'è me la venite a prima se per caso che ha scoperto era è inutile che cerco di sparare da qua ricky devi girarti e sparare morto ci sono anch'io non mi sparate sono io eh eh lo so ma tanto qua ci hanno sentito ci hanno sentito su sta mappa e quell'altra quindi eh binks andiamo dietro a un albero qualcosa mi mi fate una transfusione? ho 8000 di vita ehm andiamo chi è che? no so io questo eh eh ma non ti mette la ricky cioè se hai una macchia nera su un foglio eh lo so lo so però no è meglio che un calcio nel culo no è meglio un calcio nel culo sì ma me so curate curate mo arrivamo no no mo viene lui io non ci torno là nella tana del lupo vabbè non si abbandona un compagno blinky winky infatti non l'abbandono mi fermo qua l'aspetto no l'abbandonato io no? è morta corretta è vero vero è morta corretta poi nel caso ritorno che hai detto io non sono morto è inciomorfina è inciomorfina porca troia è la città che aveva monossico che c'è un monossico mi faccia un'altra sfusione e io non ce l'ho mai più ampi eh si devi venire di qua eh sto a prova a mezzo sto a venire a strada te la fai richiamarmi? dove sai? madonna ci sono venti sull'opera sì venti magari c'è un servo all'orchestra strisciallato se fox però non penso perchè forse c'è la ragione Ricky io sto qua cioè sto mirando completamente all'ultraparte ah hai c'è? c'è sulla mappa no non c'è sulla mappa strana Ricky rotola? rotola rotola bimbo pinghia come rotola perchè? mi sa che si è bloccato mi sa anche a me ah beh cinque secondi cinque secondi madonna resta sulla strada vado a salvare fox che sta con le gambe route mi dime se sto andando alla parte giusta vai vai si te vedo vedo un'ombra che sa mamma dai attento noi ti copriamo vaffanculo bimbs oh l'ho fatta io prima la cavia stava a morire non lo so davide questa te la devi ricordar però eh che sono venuto io a far salvarti il culo no ma hai visto guarda davide ma dov'è davide no vabbè ma sei un co***e pure te davide ma sei proprio un co*****e capiscina sega di sto gioco che è successo ah 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 doma donna c'è la tua domani domani ricky ma chi c'è un po' a me madonna di ca sull'inistro purtroppo è un pox e ti metti seduto madonna amma del solito almeno aiuta lì va verso ricky e se ci affetto domani moto salvo andiamo da loro metto fino a questo l'episodio lunghissimo ed ora come ma che vedi la radio santo stava di poverza c'è spoglione salva il culo dai io si riconoscente fammi in fretta stai fermo stai fermo cosa scorda del pen kill e cosa non c'è ma in me sta ben da oh mo alzate le chiappe e correte non trovare si fai un clistere fai un clistere madonna se questo è un fucile d'orchino l'avessimo trovato prima avrei ammazzato uno di quelli aspetta quello che ci rimette ci rimette sempre io beh abbiamo trovato un'arma per te binks in questa missione ehm ce l'avevo pure prima potevamo pure non fare niente avremmo risparmiato morfine pen killer band e cose varie vabbè intanto abbiamo giocato un po' oh io porro ciao bella ah io ho preso una pistolina è la gd c'ha sede ma io ho finito i colpi dell'embo non ho preso un cazzo madonna cioè comunque se uno vi vede così sembrate veramente due macchie nere su un foglio di carta bianco dove state voi? mi ricordo dove state? eh veniamo fermi appena siete sull'erba sì come hai detto ogni volta eccoci ok bella mettiamoci seduti e salutiamo sì come i bambini dai ok per questo episodio è tutto la Amanda degli spannati vi saluta ciao da Ricky bella ciao bella zì bella zìì e